ospite della puntata odierna di domenica in 7 gennaio 2017 è stata la bella brava e simpatica romina power figlia del grande tyron power e ai microfoni di cristina parodi la bella cantante avrebbe detto le seguenti parole non finirà mai secondo me con albano e poi la bella romina avrebbe aggiunto scherzando ora mi sono data la da zappa sui piedi perché nessun pretendente si farà più avanti è stata piuttosto ironica la bella brava e simpatica romina power vi ricordo che già in occasione di uno show andato in onda la serata di capodanno sulla rai si sarebbe parlato di un riavvicinamento tra albano e romina e addirittura di un bacio di un bacio che ci sarebbe stato dietro le quinte parlando della sua vita e dell'ipotesi di tornare a vivere in italia la grande artista avrebbe detto negli states non mi sento poi così tranquilla come prima la mia casa ormai a roma è diventato un centro buddista un centro dove si può imparare a meditare o studiare gli insegnamenti del buddha vi ringrazio per l'ascolto questo dunque sarebbe quanto un saluto iscrivetevi e complimenti a romina power un salutone appresso